Noi ci crediamo fortemente, crediamo fortemente a questa nostra identità che è il cavallo tramite il quale promuoviamo l'intero nostro territorio, dalle sue eccellenze ambientali, quelle enogastronomiche. Crediamo nel fare squadra e quindi di poter in qualche modo relazionarci e fare sistema tra il comune e capoluogo e i borghi delle aree interne e raccontare questa nostra bella provincia tramite la sua storia, le sue tradizioni, le sue eccellenze. Quindi noi crediamo che questo evento sia un evento tanto atteso dopo il periodo pandemico, un evento di grande aspettative e sarà un successo in termini di presenze e di attività. Abbiamo creato due giornate paritarie dal punto di vista dell'offerta sia dal punto di vista degli spettacoli equestri che di intrattenimento generale per le famiglie, quindi sabato 30 aprile e domenica 1 maggio. Alle pendici del Monte Catria, in questo nostro spazio all'aperto di più di un ettaro, in cui al cavallo del Catria, agli spettacoli equestri di alto livello, si unisce tutto il nostro paniere delle tipicità, dei prodotti agroalimentari e di intrattenimento per le famiglie, con un occhio di riguardo ai ragazzi, ai più piccoli. Ecco, e si riparte dopo un 2019 che ha registrato forse il massimo di presenza di questa manifestazione. Esatto, ecco, siamo fiduciosi ma anche preoccupati, nel senso che l'obiettivo è di riproporre quel successo che era un successo storico, veramente in cui l'evento aveva toccato l'apice dal punto di vista della sua attrattività, ma forti appunto di quel successo e consapevoli che comunque tramite questa nostra identità, che è il cavallo, che è l'unica razza autoctona della regione Marche, noi riusciamo a raccontare l'intero nostro territorio. Quindi abbiamo aggiunto elementi di qualità su spettacoli nazionali, equestri, di intrattenimento musicale, format per i più piccoli, quindi un contenitore che saprà aglietare per l'intera giornata o per le due giornate, se uno sceglierà di stazionare il weekend a Cantiano, il grande pubblico a partire appunto dal contesto familiare.